22 febbraio 2012 punta arbella ecco qua la croce 1875 in primo piano vedete il signor giovanni guerreschi affamato e qui c'è anche enzo che dire qui c'è la croce il libro della vetta ma la punta vera dove c'è segnata e quello metto la in fondo cinque minuti di cresta qui vedete un bello spettacolo tutta la catena qui del della quinzegna con la verze passiamo poi al monte giavino al mon fan di e poi la in fondo vediamo la rosa dei banchi la terciva la 3 no la terci la ferra il monte cavallo le torre di lavina cima del ballone cima del ballone punta manda manda poi c'è il monte colombo poi andiamo sul sulla distanza la vendiamo le levanne la ciamanella la bessa nese la croce rossa la croce rossa e la torre dovarda scalata da questi signori un mese fa guardate lo sugulliver il monviso dietro qui abbiamo il monte sodio e la cima mares ripeto di nuovo il signor giovanni qui c'è enzo e che dire siamo partiti da siamo partiti da fracchiamo fracchiamo a a 980 metri e in un'ora e 25 arriviamo su questa cina il livello stato di 900 metri il percorso è stato molto ripido non ci sono falsi piani sempre sul tiro quindi impegnativo e con questo mandiamo i saluti da questa cima 22 febbraio 2012 c marbella 900 mille ottocento mille 870 in un'ora 25 da fracchiamo o non rivederci e alla prossima continuiamo la gita ecco vedete la cima dell'arbella la la croce dove c'è il libro ma la vera punta qui su questa cresta è qua ecco qui dove c'è il signor giovanni che sta tarando l'oroggio ecco qui qui c'è la bussola con tutte le le direzioni lì lì c'è enzo e qui c'è la targa della cima puntare bella eccola qui mille ottocentosettantanove messe dal cai di rivarolo vi faccio vedere ancora il panorama partendo dalla quinzegna qui vediamo il monfondi rose dei banchi colombo qui vedi bene sotto pian prato la vediamo le levanne e di qui vediamo come siamo quella che è scalato il peggio torre da barda il sogno 22 febbraio 2012 qui la vera cima l'arbella 1879 con questo un arrivederci e alla prossima